19 agosto continua il giro e lasciamo lo sterrato per iniziare la strada asfaltata e andremo al monastero salita sul monte conero e sono sempre sulla mia cannondale fsi 29 carbon team il giro è partito con piero e giovanni ma dei due è rimasto solo giovanni con me piero ha avuto una delle sue fitte e ha dovuto abbandonare e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricate e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete contividete sui social i video che preferite se volete potete seguirmi su strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio volendo potete seguirmi anche su twitter e perché no anche su instagram vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo ciao 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 fisso al 12 per cento un pochino forse smolla forse si 11 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Vediamo quasi a essere a metà monte. 12% ma ora dovrebbe smalare. Grazie. Grazie a tutti. Quasi piano. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Sì ecco, 10, ma questo è 11-12, adesso tra poco ce lo dice 11 infatti 12 infatti 12 infatti 10 suoi 11 sui 11 suoi 12 suoi 11 suoi 13 suoi 12 suoi 13% 13% fisso 12% 13% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 15% 15% 15% 15% sempre 13% qui c'est marrant l'arrivée là là Sì, 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 sì. Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati, guarda altri video, ce ne sono di vari generi, i video di questo giro continuano, ciao, alla prossima!